Con una nota Edmondo Cirilli, questore della Camera dei Deputati e Parlamentari Salernitano di Fratelli d'Italia, sui rifiuti a Battipaglia spiega. I cittadini della provincia salernitana ancora una volta traditi dal presidente della regione Vincenzo De Luca. Si sprofonde infatti in una nuova emergenza rifiuti dovuta alla decisione di trasferire l'Ecoballe, che aveva promesso di smaltire da tempo, nello stir di Battipaglia, trasformato di fatto in una discarica abusiva. La presenza delle Ecoballe nello stir di Battipaglia prosegue non solo la renta, ulteriormente il finanziamento dell'impianto già in affanno per le incapacità della giunta PD alla guida della provincia di Salerno, ma crea soprattutto danni all'ambiente. Infine annuncia, presenterò un'interrogazione al ministro dell'Ambiente Sergio Costa, sollecitando l'invio del NOE per accertare responsabilità e danni provocati dalla scelta di inviare le Ecoballe nello stir di Battipaglia e di adottare tutte le misure, compreso il sequestro dell'aria, per impedire una vera e propria emergenza, oltre che ambientale e sanitaria.